Musica Ultima edizione di Stadion News in studio, Riccardo Gatto. Dopo il pareggio di sabato contro il Sassuolo, riprenderà nella giornata di domani la marcia d'avvicinamento del Palermo verso la gara di domenica contro l'Atalanta. I rosa nero si ritroveranno all'attenente onorato di Bocca di Falco per una seduta pomeridiana. Direttamente dal proprio profilo Instagram, il portiere capitano del Palermo Stefano Sorrentino torna nuovamente sul pari di sabato sera contro il Sassuolo. Buon punto, ha scritto il numero 70 rosa nero. Adesso abbiamo quattro partite da disputare per finire al meglio un'annata grandiosa. Forza Palermo! Una serata argentina, sfruttando il giorno di sosta concesso da Beppe Iechini dopo il pareggio di sabato contro il Sassuolo, Paolo Di Bala ha fatto tappa a Roma. E in serata ha incontrato Paredes, Iturbe e Daniele De Rossi. Il motivo? I quattro hanno visto insieme Boca Junior e River Plate. Niente mercato dunque, solo calcio in compagnia di amici romani in una serata dal sapore argentino. Due partite da titolare in campionato contro il Parma e contro il Sassuolo. Prove per il futuro? Probabile perché Samiruicani può diventare il titolare del Palermo che verrà. Intanto c'è un contratto da firmare. Siamo vicini, ha messo il portiere Kosovaro dopo la gara di sabato contro il Sassuolo. Mancano i dettagli e io sono davvero felice. Dico grazie al mister e dico grazie anche a tutti i miei compagni di squadra. Poi un pensiero su Di Bala e Vasquez sono due fenomeni, anche in allenamento. Per tutte le altre notizie, stadionews.it